L'ultima truffa, almeno in ordine cronologico, risale solamente ad alcuni giorni fa. A Civitella in Valdichiana, un'anziana è stata infatti derubata da un finto tecnico della Società dell'Acqua, che con la scusa di controllare la casa per verificare perdite idriche, è riuscito a mettere in atto il suo piano. Purtroppo, quando la donna si è corta di essere stata raggirata, era ormai troppo tardi. Dall'abitazione mancavano alcune centinaia di euro in contanti e degli oggetti preziosi. I carabinieri che indagano sul caso avevano subito chiesto la massima attenzione a tutta la cittadinanza, soprattutto agli anziani, invitandoli, in caso di dubbi, a chiamare il 112. Adesso è direttamente nuove acque ad informare i cittadini che nessun tecnico della società viene inviato nelle abitazioni senza adeguato preavviso. La competenza dei tecnici non va infatti oltre il contatore e solitamente l'accesso all'abitazione si rende necessario solo nel caso in cui lo stesso sia collocato all'interno e unicamente per le esigenze di lettura e o interventi tecnici. È bene quindi di fidare specifica nuove acque da coloro che si presentano alla porta di casa con la scusa di effettuare un controllo sulla potabilità o sulla qualità dell'acqua. L'azienda inoltre raccomanda di invitare sempre l'operatore o presunto tale ad esibire il proprio tesserino di riconoscimento contattando la società. Infatti sarà anche possibile verificare che il controllo sia stato effettivamente programmato. Se le generalità del tecnico non saranno confermate, sarà poi opportuno contattare immediatamente le autorità competenti per denunciare il fatto.